siamo con andrea la monica del prato 2013 andrea un gran secondo gol una rovesciata che poi vedrai su settimana sport fammi un po' un commento dalla partita direi ho visto che spingevi siamo andati sotto meritatamente anche se hai trovato il gol della domenica però ci sta poi il secondo gol noi ci siamo azzerati come al solito di testa hanno fatto anche il secondo e purtroppo noi di testa ne impattiamo sempre un sacco però poi ho trovato il 2 a 1 di testa poi abbiamo fatto anche il 2 a 2 vabbè a parte il gesto tecnico che lo dedico a Bortolini però poi per fortuna abbiamo fatto il 3 a 2 all'ultimo e abbiamo raggiunto questa questa salvezza senza fare anche play out sì direi che anche lì c'è stato l'innesto del numero 17 se mi vuoi dire il nome che io non ricordo che è servito molto di pastorino un ragazzo del 99 dicembre 99 molto promettente secondo me pecca ancora un po' di nella sua giovane età quindi qualche errorino passa poco prende tanti calci però è veramente un giovane promettente vabbè però vi ha tolto vi ha tolto dalle castagne dal fuoco vabbè 11 gol per essere la prima esperienza in una prima squadra con i grandi fare 12 gol scusami non è male per un 99 va bene dai in bocca al lupo per il prossimo campionato e niente complimenti gran secondo bel gol ciao arrivederci ciao arrivederci ciao